Buongiorno a tutti, sono Giordano e oggi siamo qui con Amerigo e ci stiamo occupando del rinforzo della spalla. Qui in Fmedical cerchiamo di trattare la problematica a 360 gradi e dopo aver eliminato il dolore ci occupiamo di rinforzare. Come stai Amerigo? Molto meglio rispetto a quando sono entrato. Che dici, iniziamo qualche esercizio? Va bene. Allora Amerigo, premi sul cerchio per 30 secondi, mantieni i gomedi attaccati al fianco, bravo. Amerigo deve rinforzare la spalla, purtroppo dopo il suo infortunio ha una difficoltà nel mantenere la scapola adesa al torace. Con questo esercizio andiamo a rinforzare tutti i muscoli della scapola e del braccio per cercare di stabilizzare la scapola e la spalla. E il riposo. In Fmedical disponiamo dei macchinari più all'avanguardia per facilitare il percorso di recupero del paziente. In questo caso stiamo utilizzando la Synergy Vis della Human Tegar. Ci permette di migliorare il reclutamento delle fibre muscolari e di facilitare il recupero della forza. Soprattutto nei pazienti che non dispongono di molta forza dopo il recupero di un'infortunio. Ok Amerigo, adesso stendi le braccia. Ottimo. E allontana le spalle mantenendo le scapole basse. Perfetto, mantieni così. In questo momento ci stiamo occupando del rinforzo del gran dentato, un muscolo situato sotto la scella che serve a deprimere e stabilizzare la scapola. Senza un gran dentato forte la scapola di Amerigo non sarà mai stabile. E il recupero. Bravissimo.